Finalmente i temi che interessano i cittadini emergono dalle nebbie di una campagna elettorale finora caratterizzata soprattutto dalle polemiche nel Partito Democratico sui metodi di scelta dei candidati e dal braccio di ferro in Forza Italia tra fittiani e fedelissimi di Berlusconi. Quelli da battere sono soprattutto la controparte e non la guerra all'interno del PD stesso. Io penso che ormai è giunto il momento di iniziare la campagna elettorale per dire che questa regione può continuare a amministrare con il centro-sinistra questa volta con Emiliano presidente ma soprattutto con un PD sempre più forte. Cosimo Durante, esponente di spicco del Partito Democratico Salentino invita i suoi a non guardare in casa altrui e richiama l'unità del suo partito. Noi abbiamo il dovere soprattutto di raccontare ai pugliesi la Puglia che vorremmo nei prossimi anni quali saranno i contenuti, la sostanza del programma stesso che con il presidente Emiliano noi vogliamo continuare a scrivere da partendo dal basso. A noi tocca questo, parlare di contenuti, le beghe politiche della controparte, se così la possiamo chiamare, degli avversari politici non ci deve interessare. Presidente del GAL Terra Darneo Durante non può non esprimersi sull'inquietante fenomeno della moria degli ulivi salentini. Noi siamo vicini soprattutto ad un'idea che non possiamo cancellare una cultura e cultura così importante per il salento. Quindi accompagneremo qualsiasi azione che vada a sostegno ma a tutela di questi grandi nostri monumenti che per noi significano identità. Siamo contro l'espianto degli stessi ma soprattutto siamo per la tutela ovviamente degli ulivi che per noi rappresentano la storia. Temi che interessano i cittadini come la metropolitana che collegherà Martina Franca al capo di Leuca. Sì, lo annunciamo proprio su Canale 8, allora con un'intervista al sottoscritto. Tale opera sta ovviamente sullo comma riguardante le fondorevoche dello Sblocca Italia e speriamo che tutto vada nel verso giusto con ovviamente l'impegno che anche la Regione Puglia deve fare la propria parte.